Buongiorno a tutti, ci ha raggiunto oggi in studio per il consueto appuntamento con Focus Ricerca il professor Marco Pistoia. Il professore è docente di storia e critica di cinema e filmologia nell'ambito del Davimusso, nonché ideatore della rassegna cinematografica Visioni Metropolitane. Qualche minuto fa il professore ci parlava delle sue attività di ricerca, cinema mutuo e sonoro, dei rapporti tra il cinema e le altre arti, e in particolare il cinema di Visconti. Circa un suo recente progetto, il professore ci parlava della rivista online Davimus Review. Professore, vuole dirci qualche parola in merito? Sì, si tratta di una nuova rivista che contiamo di far uscire in rete entro il mese di maggio, col cosiddetto numero zero. È una rivista che si occuperà di cinema, teatro, musica e produzioni multimediali, con una parte più snella che è dedicata a recensioni di film, spettacoli teatrali, ma anche libri. È una parte più scientifica, dedicata a dei saggi critici più ampi, legati appunto alle sfere artistiche dello spettacolo di cui appunto si occuperà la rivista. E per quello che riguarda invece i partecipanti a questo progetto editoriale e anche i potenziali fruitori poi? Dunque, i partecipanti sono come redazione alcuni miei studenti laureanti e laureati nella triennale o nella magistrale Davimus della facoltà nostra di lingue e letterature straniere. Quindi un buon numero di giovani redattori in redazione, un comitato scientifico che sto ultimando di approntare, che sarà composto da docenti studiosi italiani e anche stranieri di, devo dire, alto profilo scientifico. E i fruitori più o meno dovrebbero essere quelli che sono anche gli abituali fruitori di un tipo di proposta che da un lato è così specifica, appunto le arti dello spettacolo. E dall'altro però vuol coprirle tutte queste arti, quindi diciamo dare ad ampio raggio una fruizione ampia, ma diciamo nella linea delle riviste sia cartacee che online di questi settori. Un progetto editoriale di eccellenza, soprattutto nell'Ateneo, la prima rivista che parla e che affronta di queste problematiche. Ricordiamo l'indirizzo internet dal quale sarà possibile accedere alla rivista che è www.davimusreview.unisa.it Naturalmente per tutti gli interessati la possibilità di condattare il professor Pistoia via mail, vuole dirci la sua mail, professore? Semplicissima, mpistoia.unisa.it Allora, grazie professore e bocca al lupo per la rivista. Grazie, buongiorno. Grazie a tutti.